Filosofarti continua il suo cammino, il suo percorso e tiriamo un attimo le somme. Diciamo che i primi dieci giorni, perché ormai dal 12 di febbraio ad oggi sono già passate molte iniziative, le proposte sono state veramente tante, per ora il bilancio è molto positivo, molto positivo. Tanto per dare un'idea, l'intervento di Curi è stato seguito da più di 1300 persone. Chomsky ha raggiunto gli 800, insomma sono numeri importanti. Ed è stato secondo me vincente il fatto che quest'anno, più degli anni scorsi, abbiamo deciso di alternare momenti in presenza con momenti a distanza, in modo che la gente che non esce tutte le sere naturalmente, possa comunque frequentare o rifrequentare e ripercorrere anche esperienze già vissute. Lanciamo i prossimi eventi, i prossimi appuntamenti di Filosofarti? Sì, assolutamente, io consiglio sempre di andare nel sito www.filosofarti.it perché lì c'è tutto, ed è anche un festival un po' in itinere perché si stanno aggiungendo eventi agli eventi già stampati sulle nostre brochure. Però voglio ricordare Luciano Manicardi che sarà settimana prossima presente, Gerardo Colombo Busto Arsizio, tra le tante cose, Crepet e poi naturalmente altri come Mercalli. Grazie! Grazie!